Direttore, non è certamente un bel finale di pomeriggio, però insomma ce l'avevate quasi fatta. Questo è il bello del calcio, il bello e il brutto, purtroppo. I ragazzi sono stati anche oggi esemplari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del cuore. Anche oggi tutti giovanissimi, oggi c'era l'esordio di un 2005 nel nostro settore giovanile. Cosa vogliamo dire di più a questi ragazzi qua? Stanno facendo un campionato storico, però purtroppo il calcio al novantesimo prendi gol su autogol. È già il secondo in due partite, purtroppo questo è il calcio. Sì, questo è il calcio. Le dicevo al mister prima, Giacomini, con cui dice se mi fai parlare adesso mi prendo un po' di disqualifica. Poi è riuscito invece ad essere obiettivo, però avevo concluso dicendo che c'è da lavorare su questi giovani, avete un bel gruppo di giovani, una bella fisionomia di squadra. Ci sarà da lavorare e da prendersi le soddisfazioni sicuramente nei prossimi anni. Certo, certo. Il campionato non è ancora finito. C'è ancora in ballo il secondo posto per andare ai play-off. Noi ci crediamo, i ragazzi ci credono. Oggi è una giornata no, però ripartiamo domenica da Porto Mansuet e con la testa giusta. Direttore, buon lavoro, buona settimana e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Grazie.